ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale vediamo qui due bei scatoloni siete pronti per l'unboxing chissà cosa ci sarà qui all'interno apriamo prima questo è un lotto che ho acquistato su ebay è ovviamente un lotto informatico viene l'imballaggio è stato dovuto primo case un sacco da pace un sacco 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.